Grazie Ancora Ancora Quattro Quattro Due 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 Un 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 Per favore non voglio essere scortese, però scusate un attimo, scusate un attimo Befana, blocchiamoci un attimo, mi chiedo ancora fare un po' di occhi, quindi chi è riuscito il tono per favore vada a niente, cerchiamo di fare una fila di entrate e una fila di uscita, è giusto che tutti i bambini che sono due le facciamo la seconda. Grazie